La fiction storica è importante, secondo me, per il suo ruolo di popolarizzazione della storia. È difficile che la fiction apra nuove verità storiche, semmai può costituire da impulso ad alcune ricerche, ma sicuramente può, parlando a un pubblico, a volte di nicchie, a volte di massa, contribuire a tenere accesa un'immaginazione storica, dove la storia può fare da sfondo, può fare da pretesto, ma può anche essere lì per stimolare ulteriori processi, magari, di apprendimento o di approfondimento. Provo ad andare un po' laterale e a suggerire agli studenti una sitcom. Magari non viene immediatamente automatico pensare alla sitcom come qualcosa che si debba recuperare, che vada visto. Quella che indicherei innanzitutto è Seinfeld, che in Italia ha avuto molto poco successo, molta poca fortuna, ma che da qualche tempo è disponibile con tutte le sue stagioni su Amazon e che rappresenta da un lato una fotografia perfetta degli Stati Uniti, metropolitani, New York negli anni 90 e dall'altra è una serie a suo modo eterna, che non ha subito particolarmente le ingiurie del tempo e che continua a essere divertente. Nell'intervento racconterò della sitcom, della comedy e di come, anche se magari non ci pensiamo, anche se non ci viene da considerarla tra gli agenti di storia, tra i narratori, tra i generi che più hanno a che fare con la storia, andiamo invece a vedere quello che è il rapporto che comunque c'è e c'è, proverò a dimostrarlo, in almeno due sensi. Da un lato ci sono delle sitcom che sono ambientate storicamente, spesso si tratta di uno sfondo o di un pretesto, ma anche questo è importante. E dall'altra parte, forse ancora più importante, le sitcom sono sempre collocate all'interno di una cronaca che poi diventa storia. La sitcom è un tipo di serialità che si riguarda anche a distanza di tempo, che viene replicata, che è accessibile su mille piattaforme, e vedere delle sitcom che magari hanno solo anche qualche anno, ma che recano una serie di tracce di una cronaca che è diventata storia, ci consente di guardarle in un modo diverso, con altri occhi e di scoprirne altro valore.